Salve a tutti ragazzi, abbiamo fatto miscela, adesso si riparte Si riparte Stanno andando cipolli Sì, hai visto prima in via di casa mia che ho frenato un minimo meno sgommato? Beh, oggi non posso correre, perché se non metto i tastellati è troppo pericoso, scivola le ruote Se lo metto liscia Sì 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 Noi, 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 noi io? ciao ma provare ad alzarlo vuoi provare ad alzarlo al minimo ok prova dai un consiglio cosa devo fare la frezione la sto la lasci subito poi accompagni il gas fai così ma stai col piede sul freno perchè in caso ti ribalti lo clicchi? eh il culo dove lo metto? bello diesimo via c'era via c'era via c'era una via c'era via c'era E' un'ottica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.